Da lunedì la Sicilia è in zona arancione, ma l'aumento dei contagi, seppur lieve a livello regionale, ha portato all'istituzione di due nuove zone rosse. Si tratta di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Regalbuto, nell'Ennese. L'ordinanza, firmata nella giornata di ieri dal presidente della regione siciliana, nell'Umusumeci, entrerà in vigore da domani e sarà valida sino al 30 marzo compreso. Il provvedimento del governatore dell'isola prevede anche la chiusura delle scuole, come richiesto dai sindaci delle due città. E si è reso necessario, a causa di una rapida impennata dei nuovi contagi da coronavirus, registrata negli ultimi giorni e certificata dalle rispettive ASP. Con Sciacca e Regalbuto, in Sicilia salgono così a 11 le zone rosse. Soltanto lunedì, nell'Umusumeci, ne aveva istituiti altre quattro, sempre su richiesta dei primi cittadini dopo l'aumento dei contagi, ovvero Caltanissetta, Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, Caltavuturo, nel Palermitano, e Scicli, in provincia di Ragusa. Tutte resteranno zona rossa sino al 30 marzo. La scorsa settimana, invece, gli stessi provvedimenti avevano riguardato Altavilla Milice e San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo, Montedoro, nel Nisseno, Portopalo di Capopassero, nel Siracusano, e Raffadali, nell'Agrigentino.